I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like this. Campo alla fiera di Anghiari con l'assessore al turismo che sicuramente ha apprezzato la conferma da parte della CNN di inserire Anghiari tra i 15 borghi più belli d'Europa. Che cosa significa questa conferma? Un significato importante, intanto che abbiamo la fortuna di vivere in un borgo bellissimo che ha anche però delle caratteristiche perché non è solo l'aspetto estetico del borgo quindi non è solo l'architettura ma anche il modo di vivere dei nostri borghi che attira l'attenzione evidentemente di una testata così importante ma anche poi dei turisti. Il nostro vivere slow, Anghiari ricordiamolo, è anche città slow oltre che essere uno dei borghi più belli d'Italia bandiera arancione, questo implica una serie di caratteristiche che sono molto apprezzate da chi vive nelle grandi città. CNN fece questa classifica lo scorso anno, riconfermata adesso e questo clamore perché poi quest'anno tutte le testate anche nazionali hanno ribattuto la notizia e quindi noi devo dire la verità da tre anni, tre stagioni estive nonostante il covid abbiamo avuto tantissimi turisti proprio per queste caratteristiche perché qui si vive con calma, si possono assaggiare davvero i cibi a chilometri zero e quindi insomma sono tutte peculiarità che vengono molto apprezzate dagli italiani e dagli stranieri che quest'anno sono tornati devo dire in massa ad Anghiari noi ancora abbiamo una stagione molto lunga davanti perché le iniziative sono tante nonostante l'estate sia ormai finita, si dice che finisce un po' con il rientro delle scuole ma le nostre iniziative continueranno ovviamente a settembre ma a ottobre, a novembre quindi siamo pronti ancora ad accogliere la cosa che mi ha gratificato maggiormente dell'entrare a far parte di questa classifica è stata che la giornalista è venuta ad Anghiari pressoché in incognito però senza fare grande clamore quindi diciamo così che non ci siamo preparati ad accoglierla è stato il modo degli anghiaresi, è stato il direttore del nostro museo che ha così sull'impronta accolto come si doveva una turista fondamentalmente e questo è ancora un valore maggiore secondo me Per quanto riguarda quindi una estate che si prolungherà fino praticamente alla fine dell'anno dal punto di vista del turismo un ritorno, abbiamo capito tra l'altro un ritorno per modo di dire perché non sono mai mancati i turisti di quali nazionalità oltre al ritorno possiamo immaginare anche degli italiani? Tantissimi italiani ovviamente tanti turisti, ci sono tantissimi belgi quest'anno francesi che non si vedevano da parecchio ovviamente i tedeschi, ovviamente gli inglesi e insomma tutti con la stessa faccia sorridono quando sono ad Anghiari si gustano un bel calice di vino quelli buon gustai gli altri magari prendono un cappuccino dopo la pizza ma sorridono lo stesso Ecco, per quanto riguarda invece la permanenza di questi turisti ad Anghiari l'accoglienza come viene diciamo così sviluppata attraverso alberghi, bed and breakfast, agriturismo? Tutto quello che hai detto abbiamo ad Anghiari due hotel poi il resto sono agriturismi anche molto belli devo dire bed and breakfast nel centro storico del paese però tutte queste strutture non sono sufficienti ad accogliere i turisti che arrivano ad Anghiari per cui questo significa che dei nostri turisti ma questo è uno scambio naturale che avviene anche in senso inverso i nostri turisti alloggiano nei paesi limitrofi da Caprese Michelangelo a Pieve Santo Stefano a Sansepolcro ad Arezzo e questo potrebbe essere anche un bel messaggio che possiamo lanciare c'è bisogno di recettività ad Anghiari quindi chi avesse voglia di investire nel nostro borgo sicuramente è un investimento fruttuoso perché c'è bisogno Per quanto riguarda la permanenza qual è quella media dei turisti ad Anghiari? Allora noi abbiamo due tipi di turisti abbastanza ben distinti ci sono quelli che fanno la giornata e se ne vanno e ci sono quelli che invece amano restare qui qualche giorno perché per esempio in particolare quelli che alloggiano negli agriturismi come è nella natura dell'agriturismo stanno magari una settimana si godono un giorno di piscina poi fanno un giro in centro poi un altro giorno di piscina poi vengono a chiedersi consigli su come possono sfruttare quella giornata quindi che cosa c'è di bello vicino da vedere quindi ecco quelli diciamo che amano veramente godersi il territorio e quindi preziosissimi siamo soddisfatti del risultato ma pretenziosi verso noi stessi quindi c'è da lavorare I have a wonderful electronic invention I want you to see it looks something like you Hass construtti i Ticket perIsza ma pretene Grazie a tutti